8 e 13 minuti in questo istante, ci ha raggiunto in studio l'ospite di questa mattina che è un collega, un giornalista, un giornalista del Corriere della Sera dell'edizione di Milano quindi chissà quante volte appunto, anzi lo so, quante volte abbiamo letto articoli suoi qui la mattina, buongiorno e benvenuto a Matteo Castagnoli Grazie innanzitutto dell'invito, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori Grazie a te che mi dai modo di lavorare la mattina perché sennò io senza i vostri articoli non saprei come fare la rassegna stampa Però l'importante insomma è esserci in un qualche modo Quindi davvero grazie perché insomma tutte le mattine tu, i tuoi colleghi della redazione di Milano del Corriere, anche quelli degli altri testati locali appunto di Milano ci date modo di commentare, di leggere, di avere proprio un occhio vigile sulla città che insomma voi tutti i giorni battete come si dice in questo caso La copertura c'è diciamo, i marciapiedi si marciano E bravo, marciapiedi è proprio la parola iniziale con cui possiamo partire a parlare perché io ti ho chiamato in realtà dopo parleremo di cosa fate voi giornalisti A Milano, di cosa stai seguendo in questo settante Ma come sempre poi io rimango folgorato dalle cose più bizzarre Io sono rimasto folgorato dal tuo lavoro da un articolo uscito ormai credo a fine agosto se non sbaglio male più o meno Sì infatti ero rimasto stupito quando mi hai chiamato perché me ne ero scordato Ancora prima, ancora più vecchio Ancora più vecchio Non ricordavo Infatti che dice La selva di cartelli nelle piazze di Milano Oltre 300 pali stradali nella sola piazza Repubblica Esattamente E allora gli ho detto no ma cos'è questa Era stata una cosa così un po' curiosa Nel senso nata proprio passeggiando anche sullo spunto di alcuni colleghi Insomma ritrovandosi venendo banalmente in redazione a lavoro In questa piazza che per chi frequenta Milano sa non essere enorme Però imbattendosi in un cartello stradale In un palo della luce In un semaforo Nell'attraversamento pedonale E di fatto ti immergevi in questa foresta di segnaletica verticale In cui non sapevi dove Tu scrivi In 80 metri ci sono 10 semafori Uno ogni otto Perché diciamo il vero lavoro lì era stato a contarli Infatti mi ricordo era stata una mattina insomma Dietro a contarli Tant'è vero che hanno accerto insomma Oltre 300 A spanne Ti va insieme la vista Erano 315, 320 Però insomma ci siamo fermati più o meno su quel numero Però senz'altro è un po' simbolico, significativo Giusto, tu dici la linea tra ridondanza e necessità è molto sottile in questo caso Sì, perché il concetto riflettendo era stato proprio questo Cioè capire la stratificazione urbana Ne parlavamo Verso la quale la città per ovvie ragioni Crescendo, sviluppandosi urbanisticamente Va perché ovviamente in piazza Repubblica passano i ciclisti Ma passano le macchine Passano i taxi Passano gli autobus I tram Quindi hanno bisogno delle rotaie I pedoni E quindi anche loro diciamo sono utenti della strada A volte dimenticati i poveri pedoni Ci sono le cosiddette categorie deboli Della strada come vengono definite Però senz'altro Dovendo tenere insieme Tutte queste categorie In uno spazio che per ragioni è ristretto Fa sì che debbano essere regolate Ordinati in un qualche modo E questo crea quella selva di cartelli Ripeto Necessità Che però comunque rende appunto Quando ti cimbatti Strana ecco la visione Poi ci sono anche quei cartelli incomprensibili Tipo quello dell'area B e dell'area C Che sono immensi Che tu devi fermarti e stare lì una settimana A leggertelo tutto Praticamente E quindi anche lì c'è Oltre agli altri 300 e passa che trovi intorno Sì tra l'altro proprio lì in piazza Repubblica C'è l'ingresso verso l'area C Quindi diciamo C'è anche un cartello Non si fa mancare Diciamo che in piazza Repubblica non si fa mancare nulla E se vogliamo aggiunti Parlando di Milano In piazza Repubblica ci sono anche pali della strada Che risalgono alle guerre mondiali Ancora bombardati Sì sì c'è ancora quello col famoso buco Esatto il famoso buco Quindi diciamo ce ne sono tanti di tutti i tipi anche E però la cosa interessante appunto a capire Cioè è stato quasi un gioco Io l'ho vista anche in maniera molto divertente Però in realtà c'è una grande realtà Dietro appunto quello che dici prima La stratificazione della città Cioè la città cresce Aumenta le necessità di movimento Di regolamentazione anche della sua mobilità Però poi non si capisce più a un certo punto dove finisce È un po' il concetto per cui le città Se possono si sviluppano in verticale Chiaro è che in alcuni spazi La necessità invece di svilupparsi in orizzontale O nello spazio che c'è È quella E quindi lì è appunto un caso un po' emblematico Ma in città ce ne sono anche altre Se riprendiamo vicende di cronaca Penso a Corso Buenos Aires Che è un altro punto dibattuto della città Dove appunto adesso è stata fatta la ciclabile Tra l'altro ci sono lavori di ammodernamento Per renderla più verde Però appunto i commercianti da un lato Li abbiamo sentiti diverse volte E dicono Eh ma con la ciclabile Che appunto è larga O comunque occupa parte della strada E noi non sappiamo più dove scaricare Quando arrivano i fornitori i pacchi E d'altro canto però appunto È una strada molto trafficata E i ciclisti lì la fanno quasi tutti i giorni Che devono attraversare Milano Magari da nord verso il centro Al tempo stesso però devono passare le macchie E quindi diventa sempre un po' Tenere insieme tutto Tenere insieme tutto Non è per niente facile A Milano ci sono tante esigenze Non è per nulla facile Non è per nulla facile Noi parliamo Ma sì Siamo bravissimi a fare questo Però puoi fare Io lo dico tutte le puntate Io dico tutte le puntate Che sono qua a tirare la giacchetta al sindaco Poi alla fine dico Però sindaco non lo farei mai il suo lavoro Quindi ci mancherebbe Cioè è facile parlare appunto Poi insomma Tenerle insieme Tenerle insieme Non è per niente facile Le situazioni invece E le storie che tu racconti Sulla città Sono anche tante altre Allora adesso andiamo con un brano E poi dopo torniamo Perché voglio sapere un po' Su cosa stai lavorando adesso Va bene Insomma La cronaca Non spoileriamo nulla La cronaca è sempre tanta E la seguiamo E capire un po' appunto Com'è il lavoro del cronista a Milano Franco Battiato con La cura La cura La cura che ci mette Il nostro Matteo tutti i giorni Quando scrive di Milano Bisogna avere cura Giusto questo Matteo È una città Da quel punto di vista Insomma Che richiede attenzione Nello sguardo E non solo Che cosa ultimamente ha tirato La tua attenzione Che cosa appunto Di cosa stai raccontando Di cosa stai scrivendo In questo periodo Allora uno degli ultimi fatti Insomma che abbiamo seguito È stato l'omicidio di Rozzano Quindi passiamo Alla cronaca nera Però Ci sono tante realtà Che stanno crescendo Penso all'M4 Che sabato è stata inaugurata Nella sua totalità E che in un qualche modo Vanno sempre In quella direzione Di sviluppo Urbano Poi io l'ho provata Per la prima volta Ieri sera Insomma Stavendo con degli amici E devo dire Che è molto bella È molto carina Sembra A me è sembrato In alcuni momenti Di quasi non stare Neanche a Milano Ce l'ho detto Ah però Hai visto Che siamo riusciti a fare Siamo riusciti A mettere su Un bel palinsesto Anche lì Di trasporto pubblico Infatti Devo dire Che forse La vocazione Anche europea Di ATM Che va a Copenaghen Si fa risentire Ci sono Vengono portate Importate Ok Dopodiché Ecco Lì Come si racconta Appunto L'arrivo Di una Così importante Infrastruttura All'interno di una città Come Milano Allora Senz'altro C'è La descrizione Di quello che è stato Il progetto Anche Tutto L'inaugurazione Istituzionale Quindi Il ministro Salvini Insomma Con il sindaco Sala E quello Che Che ci raccontano Però poi La parte Secondo me Più bella Insomma Che è anche Quello Il nostro mestiere Ci dà la fortuna Di fare E stare a contatto Con le persone Quindi Il primo viaggio Dei primi pendolari O dei primi passeggeri Non l'avevo seguito Direttamente io Ma altri Bravissimi colleghi Insomma Ti restituisci Un po' Anche le emozioni Gli sguardi I sorrisi Delle persone Che per la prima volta Dicono Sono io Il primo passeggero Dell'M4 E quello è bello Perché in un qualche modo È una città Che si riunisce Qualcosa di nuovo E che lo apprezza Lo valorizza Quindi Quello secondo me È sempre l'aspetto vincente Alla fine del nostro lavoro Raccontare le storie Le persone È quello Le storie Le persone Cioè raccontarle Deve essere interessante Anche perché Insomma si scopre tanto Di questa città Parlando con la gente La città La fine è fatta Delle persone E quindi Diciamo Da quel punto di vista Non si sbaglia Io ricordo Uno dei miei primi Diciamo Servizi L'incontro con una signora Che è soprannominata La sindaca del Corvetto Ida Ori Salutiamo Magari Ci stesse ascoltando E lei è un po' La memoria Storica E popolare Dico il quartiere E devo dire Io ho fatto una camminata Con lei In giro Per Piazzale Ferrara Gabriel Rosa Che non sono Sono zone con delle criticità Lo sappiamo tutti Piazza San Gilberto Via dei Cinquecento Però ti rendi conto Che quella persona Che abita lì Da 60 70 anni Ricorda cose Che ora non ci sono più Ma lo sa solo lei E quindi la sua importanza Diventa fondamentale E ti porta poi A scoprire altre Diciamo A darti altri spunti E a comprendere anche Magari A comprendere anche La contemporaneità E poi esattamente Farsi delle domande Che poi Arrivano all'oggi E quello Parlando di storie Era la sua storia Ma era la storia Un po' di tutti Bene Allora Matteo Rimani qui con noi Adesso andiamo con un po' di musica Due consigli per gli acquisti E poi torniamo ancora qua A parlare di Milano Di scrivere di Milano Di raccontare La gente di Milano Di fare appunto Il cronista a Milano Qui con Matteo Castagnoli Appunto del Corriere della Sera A Milano Su Cristal Radio Good Morning Milano A fra pochissimo Ivano Fossati La mia banda Suona il rock E invece Matteo Castagnoli La tua banda Che musica suona? Non so Se dovresti avere una banda Io sono fan Di Liga Bue Quindi su rock Possiamo andare Se il Corriere della Sera A Milano Fosse una banda Che musica farebbe? No Non lo so Diciamo Ci sono Credo tanti gusti musicali Jets quindi Un Jets Una Jam Session Una Jam Session di Jets Siamo tanti Siete tanti Quanti siete più o meno Non ti sto chiedendo Il board Direi qualche centinaia Ma perché non Siamo sparsi Fissi 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 Gente che poi Collabora Insomma Siete in tanti Tra partisi Appunto Matteo Una cosa interessante È come sei arrivato Al punto Al Corriere della Sera Che tu hai fatto L'RCS Academy Una bella esperienza Ti va di raccontarcelo? Assolutamente Era stato Diciamo È sempre stato un po' Il mio sogno Fare giornalista Tu non sei di Milano Io sono di Reggio Emilia Avevo lavorato Ho collaborato Per qualche giornale locale Quindi rientra sempre Un po' Nella cronaca locale E poi Per varie vicissitudini Anche di studio Mi sono trovato a Milano Ho scoperto Questa possibilità E ho detto Assolutamente Insomma Se posso imparare Nel primo giornale Italiano Molto volentieri Ed era Diciamo Quindi stata Why not? Esattamente Ed era stata Assolutamente Una cosa Per imparare Cioè Non c'era nessun tipo Di Ho visto che c'è Un articolo Sul Corriere Che parla di quella cosa Lì Quindi tu sei finito Sul Corriere Prima ancora Di scrivere Per il Corriere Cosa interessante Metagiornalismo Sì no Perché appunto Il lavoro finale Era stato Tra i premiati Insomma E quindi C'era stato Questo ritorno Però Ecco Devo dire Che l'RCS Academy Mi aveva trasmesso Tutta una serie Di consigli pratici Cioè Non era stato E questo Credo poi Il suo punto di forza Solo una cosa Teorica E neanche per sponsorizzare Attenzione Però Diciamo Era stato Un elemento Pratico Quello che Secondo me È stato vincente Cioè Come scrivere Un articolo Che domande fare Come attaccare Un pezzo Per non farlo Diciamo Nella maniera Più scontata possibile Per cui il lettore Giustamente Dopo tre righe Insomma Lascia Che sfoglia La pagina Quindi diciamo Era stata Un'esperienza Molto molto bella Assolutamente Allora Sul sito Mi sono andato La ricerca Di cose Scritte Ho scritto tantissimo Ultimamente Lo dico Anche i tuoi colleghi Diglielo Se vogliono venire qua A raccontarci Io sono contento Vorrei qua Tutte le mattine Visto che Questo è un Ringraziamento Che vi faccio Visto che tutte le mattine Vi rubo Gli articoli Per fare la rassegna stampa Quindi poi dopo Io voglio Ridare indietro Dare un volto Una voce In questo caso Anche appunto A chi tutte le mattine Ci racconta Diciamo Prima adesso Stai seguendo molto La questione appunto Dell'assassigno di Manuel Rozzano Temi complicati a volte Anche nel senso Cioè non È facile La cronaca nera Insomma Da questo punto di vista Ti lascia un po' così Alle volte Detto ciò Io credo che Paradossalmente Per quanto Possa sembrare Opposto Ma la cronaca nera Racconta La vita Più forse Che altre realtà Che è un po' quello Che mi ha portato Ad avvicinarmi Insomma A questo Settore Perché alla fine Noi quando parliamo Di cronaca nera Non è detto A parte che parliamo Solo di morti E quant'altro Ma ci sono tante situazioni Che possono portare Raccontando La cronaca nera Facendo la cronaca nera A galla Situazioni Che tutti i giorni Noi Dall'ultimo Al primo Viviamo In giro per la città Perché sono un po' Le criticità Che possono girare Per Milano E quello Effettivamente Porta a riflettere Su delle tendenze Che magari ci sono Non si vedono Oppure che ci sono già Ed effettivamente Creano Creano disguidi Alle persone Stesse Penso Alla situazione Furti Rapine Insomma Se noi Uscissimo di qua E subissimo Una rapina Insomma Sarebbe una cosa Che ci tocca Direttamente E quindi Lavorare su questi temi In un qualche modo Interessa tutte le persone Tant'è vero Che noi lo vediamo Sugli interessi del sito Cioè I click Che ci sono E quando si tratta Di cronaca nera Sono sempre Importanti Perché Effettivamente Le persone un po' Ci si rivedono In queste storie Che tu vai raccontare E il riconoscersi È alla fine Uno degli elementi essenziali Del nostro mestiere Poi è chiaro Ci sono vicende Molto più delicate Come può essere Quella di Manuel Di Rozzano E lì È anche Più difficile Perché Ovviamente Devi entrare in contatto Con i familiari Con In questo caso La fidanzata E infatti E quindi La delicatezza Al tatto umano È sempre Molto Ti senti sempre In difetto E quanto è difficile Appunto Andare dalla fidanzata Di un ammazzato E fargli le domande Che devi fargli Per il lavoro Io tendenzialmente Ad esempio In questo caso Avendo intervistato La fidanzata Non avevo fatto domande Cioè Nel momento in cui L'avamo contattata L'avamo detto Quello Che vuoi raccontare Insomma Noi adesso Siamo qui Perché mi sembra Giusto Nel suo Confronti Per rispettarla Poi è chiaro Che in un momento Così difficile Vai a indirizzare Con qualche domanda Cerchi di smuovere Perché rispondi Magari anche A monosillabi Però è chiaro Insomma Che il dolore Delle persone Va rispettato Questo Anche quando scrivi Questo è un bel messaggio Ma fa pensare Anche bene Fa avere un po' più Di fiducia Ancora Dico sempre Che la categoria Di giornalisti Non è che proprio Nutra tutta questa fiducia Quindi invece Per fortuna Dare anche questi messaggi Serve per far capire Che non si è tutti brutti E cattivi Se si è professionista Siamo meglio Siamo meglio Degli assicuratori No scherzo Saluto agli assicuratori In ascolto No scherzo Dico sempre Deontologia Le varie categorie Amate dagli italiani Come dire No Scrivi veramente di tutto Giustamente Perché appunto Devi raccontare Tutto quello che c'è Adesso leggevo Ad esempio Questa notizia Che volevo Che me la spiegassi Perché l'ho letta Nei giorni scorsi Un po' velocemente Devo dire Un po' distrattamente Milano Tassista fugge Al posto di blocco E viene inseguito dai carabinieri Guidava ubriaco Un po' curiosa Nel senso che Credo Adesso vado a memoria Nel sottopassaggio L'ingaribaldi In via Lesturzo Praticamente Questo tassista I carabinieri La sera Del radiomobile Fanno i posti di blocco I controlli Fermando tutte le auto Per verificare Insomma In che stato si guida E hanno fermato Anche questo tassista Che A una certa Appena si ferma Poi Stanno per fare il test Riparte Sgasa E va via Tra l'altro A bordo Aveva pure due clienti Quindi Tu immagina I due clienti dietro Che dicono Dove siamo finiti E GTA Sì infatti E quindi Dopo parte Un piccolo inseguimento Che finisce In stazione centrale Dove riescono a fermarlo E Li fanno effettivamente L'alcol test Ed era Ed era positivo Tra l'altro Nel parasole Aveva anche Della cocaina Adesso vado a memoria Della droga Quindi comunque Sì Però appunto La cronaca nera Si occupa anche di queste cose Che come dire Succedono E quindi Succedendo Non essendo italiani Però Interessanti anche Che poi Devo dire Questo qui entra nella categoria Veramente il genio della settimana Comunque posso dire Che fa il paio Con quello di Cisano Boscone Leggevo qua adesso Cisano Boscone Cane lasciato sul balcone Senza cibo né acqua E quindi Povero cane Quindi i carabinieri Intervengono e tutto Salvano il cane Ma trovano droga Nel frigorifero del padrone Esattamente Questo Ha lasciato il cane sul balcone E quando Sentono che il cane Poverino sta male Giustamente Salgono a liberarlo Però poi Non si sa Se è il fiuto del cane A questo punto Forse L'ha chiuso fuori Perché è un cane antidroga Esatto O la polizia Trovano I carabinieri Scusami Trovano appunto Quello che trovano Nel frigo Pensa che tra l'altro Quel cane Era stato salvato Era un cane abbandonato E quindi era stato salvato Dal supermercato Dove l'aveva trovato Questo signore Questo ragazzo Quindi se l'era pure Portato in casa Insomma No è surreale Capisco perché scrivi Queste cose Cioè la città è fantastica Cioè è surreale Ma perché alla fine Racconti come ti dicevo prima No? Non è solo morti E anche vita Questa è vita Sono persone Capire perché succedono Queste cose Qui sarebbe un professionista Per capire Perché succedono Certe cose Nella mente Di alcune persone Però davvero Sono storie Che ti danno Veramente l'idea Di come Forse noi altri Che magari invece Vediamo il nostro Orticello È veramente variegata Questa città La cosa bella Secondo me Della cronaca nera È quello Cioè che ti rendi conto Dello spettro umano Della Comedium Dicevano quelli bravi Cioè tu hai L'idea di veramente Tutte le persone Insomma Che popolano Milano E quindi È interessante Perché ti dico la verità Io non sono un fan Della cronaca nera Per niente Anzi io sono uno Di quelli che Un problema Andrebbe quasi esistere Ma mi stai facendo Cambiare idea invece Sì perché comunque Ti ripeto Perché sai fare Il tuo mestiere Bravo No più che altro Sovvenderla bene No diciamo Che magari appunto Uno intuitivamente Dice cronaca nera Sono i morti No invece È importante dire Che non è per forza Solo quello Ma anche quando Si trattano di morti Diciamo Come nel caso di Manuel È una vicenda tragica Ma nella quale in molti Ci sono riconosciuti Perché questo era un ragazzo Che non aveva nulla Stava tornando Non aveva precedenti Non era mischiato In nessun contesto criminale Magari che potesse Stava tornando a casa Da lavoro La sera Dopo essere Fatto il turno di notte Al supermercato Quindi chissà Quante altre persone Torneranno a casa La notte E gli capita Quello che Gli è capitato Quindi In un qualche modo Sperando non succeda Ad altri Però ci tocca Beh c'è Si sente parte Di questa storia Cioè si immedesima Infatti l'immedesimizzazione È dietro l'angolo E giusta anche Nel senso C'è un discorso Appunto come dicevi Che si capisce Beh no Devo dire Grazie Matteo Mi hai fatto comprendere Forse un aspetto Della cronaca nera Che non avevo mai Ci penso Poi dopo il pomeriggio Ti mando un whatsapp Per dire se mi hai convinto o meno Va bene Nel frattempo invece Non devo convincervi Per rimanere qui con noi Perché so che Siete all'ascolto In tanti Anche al 3317853555 Ci state scrivendo Whatsapp Grazie E soprattutto Adesso vi lascio Con un po' di musica E poi torniamo ancora qui Per chiudere insieme A Matteo Matteo Castagnoli Del Corriere della Sera Milano Con la pesce Con malvagità Alle 8 e 49 minuti Qui su Crystal Radio Ancora con Matteo Che anzi Stiamo per salutarci Matteo Siamo quasi arrivati alla fine Dacci dai no Non spoileracci Oggi Come funziona la giornata Del giornalista La cronaca di Milano Oggi Tu esci di qui E dove andrai Oggi A casa a dormire Oggi In particolare Sono di riposo Però diciamo Tendenzialmente Al mattino Si gira Si fa proprio Quel mestiere di marciapiedi Alla ricerca Col cappello Col taccuino dentro Con l'impermeabile Nero Esatto No però appunto Ci sono vari appuntamenti Magari Che possono essere Per chi fa Il comune La cronaca bianca Seguire il sindaco Piuttosto appunto Chi fa La cronaca nera Se il giro stampo In questura Quindi diciamo Si vanno così Proprio a raccogliere No Le notizie Dopodiché Il pomeriggio Si fa un punto Una riunione E si decide Cosa va in pagine Cosa no E da lì Insomma Poi le pagine Arrivano Nel senso che Vengono disegnate E noi le disegniamo ancora Che è una cosa Molto carina Insomma Anche vintage Se vogliamo E poi Una volta che Insomma Arrivano sul computer E da lì Si inizia a scrivere Con quello che si è fatto Le telefonate Chiaro è che poi Il bello della cronaca È anche che è imprevedibile Quindi insomma Stilare Una giornata tipo C'è qualcuno Che a un certo punto Lo vedi Prende L'impermeabile E deve scappare via Oppure insomma Quelle pagine disegnate Che vengono strappate Se devono rifare Da capo Da capo Ma poi invece Tutta la parte del sito Voi tutto il giorno Praticamente la giornata Tutto il sito Sì 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 C'è proprio una redazione ad hoc Che fa insomma Che fa quello Ed è molto utile Perché devo dire Che diversamente Il cronista Oltre a scrivere Farebbe fatica Insomma Ad essere anche su quello Sì Beh insomma Vi viene da dire Se volete fare giornalisti È un lavoro che consigli? È un lavoro bellissimo Nel senso che Umanamente Ti restituisce Tanto Tanto Ti arricchisce E ti permette Di avere una visione diversa Sulle cose Io parlo sempre Il giornalismo come vocazione Insomma Ma poi come in tutti i mestieri Per carità Però facendo questo So E conosco questo Bisogna proprio Volerlo Insomma È una cosa che ti deve Che la devi sentire dentro Beh no Noi abbiamo la fortuna qui In redazione Di vedere tanti ragazzi e ragazze Appunto Che arrivano con questa passione Poi io gliela faccio passare Nel giorno È vero no Scherzo Anzi No Io cerco di fomentarla E come Però insomma Vedo che Adolino avanti Porterò anche il tuo esempio Sì no Va senz'altro coltivare Cioè esatto La passione da sola non basta Ci vuole tanto lavoro Impegnarsi Perché poi Le cose arrivano Insomma Senz'altro Bene Allora Matteo Guarda Grazie mille Davvero Porto le nostre salute Tutta la redazione Grazie a voi E davvero Se qualcun altro Della redazione Quelli bravi Siamo tutti però Mamma mia Che bravo Ecco allora Tutti quanti Tutti quanti Quelle qualche centinaia Va bene Sopalchiamo In qualche maniera Ci stiamo Va bene Grazie mille Davvero Grazie a voi Matteo Grazie al Corriere della Sera Tutti i giorni Per darci spunti e notizie E magari ci si vede in giro A questo punto Insatto Sui marciapiedi Sui marciapiedi Va bene Dai Buona giornata ancora Matteo Continuiamo con un po' di musica E poi torniamo qui Per i saluti finali Perché siamo arrivati alla fine Oggi è mercoledì La giornata collinetta Volge al termine Per noi Per voi so che invece È solo all'inizio Ma ce la farete Grazie alla musica Di Crystal Radio Ciao a tutti i giorni Ciao a tutti i giorni Ciao a tutti i giorni